ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'episodio di oggi è dedicato all'horis artelier oris artelier un orologio che non avevo mai preso in considerazione che adesso prepotentemente si è fatto strada tra i miei pensieri fino al punto di decidere di portarlo sul canale e l'ho voluto portare sul canale con tutte le mie forze in che senso nel senso che il negozio era solamente presente questo qua di oggi con il quadrante verde e io sapendo che c'è anche la versione con il quadrante nero ho atteso a lungo affinché arrivasse poi ad un certo punto ho deciso di portare questo qua verde anche se non è proprio il mio preferito tra i due sono sicuro che tra di voi ci sarà qualcuno che apprezzerà di più questo con quadrante verde però per me era più interessante quello con quadrante nero stilisticamente parlando ma perché non avevo mai preso in considerazione questo oris artelier fino ad oggi semplicemente perché veniva proposto nella misura da 40 millimetri e con un aspetto leggermente differente con la data ad ore 6 con gli indici un po più grandi insomma un orologio vogliamo dire un po banale che poi nei 40 millimetri non era forse la sua misura più adatta adesso esce questo modello qua da 38 millimetri perfetti minimal e io ho deciso che può rientrare nei miei gusti e portarlo sul canale chiaramente l'orologio mi è stato messo a disposizione dal negozio quale negozio gioialeria pasquali domenici via reggio che parte l'ufficiale del canale concessionaria del marchio e offre un trattamento di favore a voi che state guardando quindi se siete interessati contattateli sia per oris che per altri marchi tutto fa brodo no come si suol dire ora io ho scelto questo questo modello qua perché era già un po di tempo che non portavo un dress watch sul canale no e poi è inutile portare sempre i soliti un gas bellissimi con lo stile bow house no questo qua è qualcosa di nuovo di differente che per molti del pubblico di voi che state guardando può essere l'alternativa consenso agli un gas bow house poi voglio dire chiaramente i gusti sono gusti io ho scelto questo orologio minimal molto minimal e poi vedrete che è veramente essenziale e quindi a qualcuno di voi potrà anche non piacere perché veramente veramente particolare è come orologio detto questo vi mostro l'orologio del giorno che parlando di misure contenute ci sta anche è il mio longin con calibro 12 68 z orologione per modo di dire del 1952 orologione perché il diametro cassa è veramente ridotto stiamo parlando di 35 mm che però al polso mi stanno anche bene no quando si dice 35 mm no sì no forse questi qua tutto quadrante così come poi l'orologio che vedremo nel video hanno anche il loro senso di esistere in questa maniera qua è bello 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 adesso giriamo la camera diamo un'occhiata a loris artelier e poi ci vediamo qua come al solito per le considerazioni finali partiamo facendo alcune considerazioni sulle misurazioni effettuate ecco i dati diametro cassa 38 mm spessore 11 mm ingombro trasversale al polso 44 e interasse anse da 20 mm misure che restituiscono un orologio compatto ed armonioso specie gli 11 mm di spessore che sono da ritenersi quasi una mosca bianca nel panorama orologero abbiamo visto nei miei precedenti video orologi da 38 mm con spessore di 12 o addirittura superiore ai 13 mm con un evidente effetto tombino qui invece ci troviamo con un orologio sottile che riesce a competere con quei vintage a carica manuale che ben conosciamo ed apprezziamo complimenti a doris ci troviamo in pratica di fronte ad un dress watch contemporaneo e moderno nello stile che va a riprendere gli stilemi del passato modificandoli per essere attuali si vede chiaramente che al polso risulta essere sostanzialmente perfetto e lo è sia per i polsi da 19 come il mio sia per quelli di circonferenza più contenuta questo perché la lunetta alquanto stretta va a mettere in evidenza un'ampiezza di quadrante che lo rende indossabile anche ai polsi grandi insomma non scompare al polso per contro chi ha il polso piccolo può valersi dei 38 mm globali che sono la misura ideale stilisticamente parlando ci troviamo di fronte ad una cassa che ricalca lo stile classico completamente lucida con ansie ben presenti e sinuose e lunetta praticamente quasi inesistente un design essenziale che però non rinuncia alla presenza in quanto le ansie sagomate in questo modo riescono a riempire bene anche i polsi più grandi se ad esempio si fosse scelto delle ansie sottili a stanga l'orologio sarebbe sembrato troppo piccolo meglio questo design nel quale l'acciaio riempie lo sguardo siccome stiamo parlando di un orologio elegante va da sé che le prestazioni non sono quelle di uno sportivo la corona è a pressione e l'impermeabilità dichiarata di soli tre bar non deve essere quindi utilizzato in ambienti acquatici per nessun motivo fa però specie il fatto che il fondello sia avvitato alla cassa fattore di solito determinante per consentire un grado di resistenza alla pressione maggiore probabilmente il punto debole del sistema come sempre è dato dalla corona di carica ma già che ci troviamo nei pressi del lato b diamo lo sguardo a chi si occupa di mandare avanti il treno il calibro incassato è il classico sellite sv200 personalizzato da oris lo si riconosce per la massa oscillante rossa colore forse un po fuori tema rispetto allo stile elegante fortunatamente rimane nascosto dal polso e non è quindi in bella mostra in ogni caso abbiamo parlato numerose volte del sellite sv200 il calibro di fornitura per eccellenza qui nella versione standard ma ruotiamo l'orologio e diamo lo sguardo al quadrante passando dal vetro lo zaffero è quanto sporgente e bombato va quindi tenuto conto anche di questo nel valutare lo spessore globale lateralmente non appesantisce la vista e lo fa sembrare ancora più sottile ma è il quadrante sottostante a definire lo spirito del dress watch moderno al di là del colore che come ho detto c'è anche in versione nera un verde oliva scuro che non appare neanche troppo sgargiante tutto sommato è abbastanza sobrio anche se la finitura soleil lo accende di luce propria ma al di là della tonalità è proprio quello che c'è a caratterizzarlo fortemente anzi tutto quello che non c'è si tratta infatti di un insieme che fa dell'assoluto minimalismo il suo punto forte troviamo solamente dei piccolissimi indici corollario le tre sfere e la scritta oris stop niente data niente numeri niente scritta automatico o che dir si voglia niente di niente un orologio che punta all'estrema semplicità che vuole scomparire timidamente sotto il polsino e che diventa protagonista solamente quando qualcuno si accorge di lui non è il dress watch classico perfetto le cosiddette regole prevedono un diametro ancora più piccolo e l'assenza della sfera secondi ma può essere considerato tranquillamente un dress watch moderno sorprendente come riesca poi ad avere anche un minimo di visibilità notturna il super luminoso è giustamente dosato con il contagocce al fine di non sminuire l'eleganza ma un minimo di risultato in assenza di luce è presente tra l'altro si è riusciti a farlo mantenendo una certa eleganza della sagoma lancette e senza snaturare lo stile da lontano non si percepisce la presenza del pigmento luminescente mentre ingrandendo si vede una sottilissima striscia di super luminosa non rimane che di squisire pacificamente a riguardo del cinturino uno dei pochi casi nei quali non balena l'idea di sostituirlo in seconda battuta è veramente ben fatto morbido senza cuciture esterne semi lucido e di un colore che trovo azzeccatissimo la versione con quadrante nero presenta il cinturino nero e secondo me la copiata è quella migliore ma il cinturino nero starebbe bene anche su questo da rimarcare che la parte interna a contatto con il polso è a finitura vellutata completa il tutto una pregevole chiusura deployant che si va a fissare nei fori dello spezzone è di spessore consistente ed anche un minimo decorata per l'age possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali come avete visto è andata via veloce la panoramica perché perché c'è poco da dire non si tratta di un orologio nel quale è presente un sottocontatore da descrivere una lunetta particolare delle finiture particolari è veramente un orologio essenziale ed essenziale è stata anche la panoramica la recensura c'è poco da dire comunque secondo me è promosso secondo me può incarnare l'archetipo del dress watch moderno tutti gli elementi ci sono un quadrante pulito indici piccolissimi niente scritte niente data 38 mm cioè praticamente quasi perfetto come dress watch moderno i punti deboli quelli possono essere è forse anche gli stessi punti forti si trasformano in punto debole un quadrante vuoto troppo vuoto non so questo sta il gusto personale delle persone io riesco ad accettare un quadrante così vuoto che è finalizzato all'eleganza non so se tutti possono accettarlo le tre atmosfere di impermeabilità sono poche in assoluto sono poche si non non si può abusare di questo orologio in determinate situazioni è un orologio che va indossato in ambienti eleganti ma d'altronde è il suo fine il suo scopo non certo in piscina non non va indossato in piscina o al mare sarebbe proprio da barbalucchi indossarlo in un ambiente del genere poi forse l'ultimo punto un pochino così è l'accostamento colori tra cinturino marrone e quadrante verde cinturino è un bel colore l'ho detto anche nella recensione perché è un marrone scuro tabacco liscio lucido che è veramente fatto bene c'è la versione con quadrante nero che ha il cinturino uguale a questo ma nero ecco secondo me quel nero lì starebbe bene anche su questo verde qua poi come sapete a me quel quadrante nero lì col cinturino nero mi è rimasto qua è proprio quello che mi piace più di tutti perché quello rappresenta veramente la perfezione in senso di dress watch poi mi capiterà magari un giorno di averlo per le mani e valuterò anche quello magari non sul canale in privato me lo guardo per benino io vi ho messo sul piatto tutti gli ingredienti decidete voi mi sembra di aver detto tutto ci siamo non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino qua e ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube l'abbiamo lançato l'abbiamo Grazie a tutti.